Musica Nella valutazione di impatto ambientale, la cosiddetta via del termovalorizzatore di Torino, è previsto di attivare un piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione. Cos'è stato fatto a questo riguardo? Sì, dunque, è stato attivato un programma di sorveglianza, si chiama SPOT, la cronibon sta appunto per sorveglianza sulla salute della popolazione residente nei pressi del termovalorizzatore di Torino, è un programma che ha l'obiettivo di monitorare la salute e che nasce appunto a seguito di questa prescrizione. In realtà, inizialmente, l'idea era, cioè almeno nella via, è previsto che sia il conduttore, cioè TRM, che conduca questo piano di sorveglianza sanitaria. La provincia di Torino si è resa conto che la complessità delle azioni che dovevano essere messe in campo richiedevano l'intervento delle istituzioni pubbliche presenti sul territorio. Dunque, è stato costituito un gruppo di lavoro che vede la partecipazione delle due ASLE competenti per territorio, l'ASLE Torino 1 e l'ASLE Torino 3, l'ARPA, sia la parte che si occupa di epidemiologia ambientale, sia la parte che si occupa di igiene industriale, l'Istituto Superiore di Sanità, il servizio di epidemiologia dell'ASLE Torino 3, presso il quale lavoro, ha il coordinamento del programma. Tutto il lavoro viene condotto in collaborazione con un comitato tecnico-scientifico. E che cos'è il comitato tecnico-scientifico? Il comitato tecnico-scientifico collabora costantemente, assiduamente con il gruppo di lavoro, sostanzialmente ne garantisce la qualità scientifica, garantisce che venga disegnato e condotto in maniera adeguata. È stato istituito dalla provincia di Torino con una delibera apposita ed è costituito da tre epidemiologi di fama, non solo nazionale, ma direi internazionale. La dottoressa Silvia Candela ha collaborato e condotto il programma Monitor della Regione Emilia-Romagna di monitoraggio sui termovalorizzatori della Regione Emilia-Romagna. Il dottor Francesco Forastiere viene da Roma ed è invece un epidemiologo, si occupa da sempre di ambiente di fama decisamente internazionale. Il professor Benedetto Terracini probabilmente è noto a tutti i piemontesi perché è stato per anni il responsabile del Dipartimento di Epidemiologia dei Tumori dell'Università di Torino. Devo sottolineare che tutti tra i membri del comitato tecnico-scientifico partecipano senza gettone di presenza, ma con il solo rimborso delle spese. Ma quindi a cosa serve questo programma? L'obiettivo generale di SPOT è quello di creare un sistema di sorveglianza che permetta di monitorare lo stato di salute della popolazione residente nei pressi del termovalorizzatore, ma si occupa anche dei lavoratori dell'impianto attraverso sia studi di tipo epidemiologico che attraverso un biomonitoraggio umano. Quanto costa SPOT? Ma soprattutto chi paga? Il costo complessivo del programma si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Nella valutazione di impatto ambientale è previsto che il costo venga sostenuto dall'azienda conduttrice, da TRM appunto, ma le istituzioni pubbliche che costituiscono il gruppo di lavoro di SPOT, non hanno mai rapporti con TRM, ma solo con la provincia di Torino. È la provincia di Torino che si preoccupa di acquisire i fondi da TRM e poi con appositi accordi dove vengono definiti tempi, modalità di lavoro e anche le modalità di trasferimento dei fondi. Questi appositi accordi regolano i rapporti tra la provincia e le istituzioni pubbliche coinvolte. Neanche la provincia di Torino, ora città metropolitana, ha la possibilità di intervenire nella conduzione o nella progettazione del programma. Assiste solo in qualità di osservatore alle riunioni che il gruppo di lavoro ha con il Comitato Tecnico Scientifico. SPOT in cosa consiste praticamente? Dunque, si articola in diverse linee progettuali. Ve ne sono due di carattere epidemiologico per il monitoraggio epidemiologico degli effetti a breve e a lungo termine, basate su sistemi informativi correnti, le dimissioni ospedaliere, i dati di mortalità, i certificati di assistenza al parto, i dati di pronto soccorso. Poi c'è un'importante linea di attività che riguarda il monitoraggio biologico attraverso la misurazione della presenza di sostanze inquinanti nel fluidi biologici delle persone. Infine esiste una linea di attività specificamente dedicata al monitoraggio della salute dei lavoratori addetti all'impianto. Quali comuni sono coinvolti? Sono tutti comuni nei pressi del termovalorizzatore, oltre a Torino, Grugliasco, Rivalta, Rivoli, Beinasco e Orbassano. SPOT si occupa anche della salute dei bambini? Beh, sì, certamente. SPOT comprende nelle sue attività di sorveglianza tutta la popolazione indistintamente dal sesso o dall'età o qualunque condizione, insomma. I bambini sono esclusi solo dal biomonitoraggio. I cittadini come possono conoscere i risultati del programma? Dunque, tutto il materiale che concerne la progettazione, piuttosto che la divulgazione, tutti gli atti formali che riguardano il programma, sono messi a disposizione di tutti attraverso un sito che è stato costruito appositamente come parte integrante del sito regionale di documentazione della salute. L'indirizzo è www.dors.it.spot. Diciamo che l'area web nasce dalla precisa volontà di essere trasparenti al massimo e di comunicare anche proprio direttamente con i cittadini. Inoltre, tutti i risultati vengono costantemente presentati e discussi in riunioni organizzate dal Comitato Locale di Controllo e in alcuni casi anche attraverso assemblee pubbliche. www.dors.it.spot.com